Il taglio di trasferimenti al Comune di Milano sono stati 280 milioni, pesanti. L'aumento di tasse che l'amministrazione comunale, legittimamente perché gli era permesso dalla legge, quindi non sto facendo polemiche, è un modello, cioè uno deve dire come governa è stato invece di 780 milioni. Quindi è evidente, lo dico anche a fassino perché questo è stato uno dei temi sui comuni, in particolare i grandi comuni. Attenzione, l'Italia è fatta di 8800 comuni, la spending review si fa a livello nazionale ma si fa anche innanzitutto partendo per far valere di più anche il Comune dal proprio territorio. È una riflessione, i grandi comuni, non i piccoli comuni, dovrebbero farsela tutti.